Ciao a tutti, sono Raul Channel e oggi apriremo tutti questi regali di Natale In realtà però ragazzi non me li ha regalati tutti Babbo Natale Perché ragazzi questo qua me l'ha regalato la mia cara amica Aurora Ciao Auris, spero che stai guardando questo video Questo me l'ha regalato il papà e questo me l'ha regalato la mamma Allora ragazzi, e questi invece sono... Vi dico anche che cosa secondo me ci sono dentro Allora io avevo ordinato il Lego City Ford Mondeo che di sicuro ci sarà qua dentro Cioè, no scusa ragazzi non è un Ford Mondeo, è un Ford Fiesta, scusate Che è molto molto bello, che mi piaceva un caderno Qua invece ovviamente secondo me ci sarà il Lego City con il pick up e la roulotte E sarà molto bello E ragazzi qua invece qua dentro non so proprio che cosa c'è Forse la pianola perché ha un regalo grande come una casa Grande proprio come una casa Allora ragazzi io direi di aprire i regali però Prima mettete like su e iscrivetevi al canale qua sotto Direi di cominciare Allora dentro il regalo della mia Aurora Che ho aperto per primo perché è una mia amica Ci sono i triangolini Molto molto belli Sono molto molto belli Anche squisiti Ah qua troviamo invece la marmellata Che è di pesche lamponi Buona Grazie Auri Poi infine troviamo Ah qua invece troviamo cioccolato Che si chiama cioccolio Che credo che è un cioccolato con le nocciole Buono E poi infine ragazzi scusate Troviamo questa barretta di cioccolato Bene che è anche al latte perché a me non mi piace E quello al fondente E mi piace un casino quello al latte Grazie Auri Non so cosa dirti Ora ragazzi direi di aprire il Lego Sì ragazzi è il Lego ve l'ho detto Ecco Mamma mia Sto regalo birgantello Scusate Allora questo è il Lego Speed Champions Era questo che volevo finalmente E costa No non è che costa scusate Ed è dai 7 anni ai 14 E qua invece vi dice che c'è un personaggio E qua invece c'è il numero 7 5 8 8 5 E qua invece Ti dice il modello della macchina Ford Fiesta E ovviamente qua è l'Edo Molto molto bello Ora direi di aprire il regalo di mamma Scusate Non ci posso credere No Calciatori Deluxe confezione Deluxe Deluxe Sessanta bustine Ma che bello Che figata Grazie mille mamma Poi troviamo un altro calciatori Ma dai Grazie papà Apriamola anche Mamma mia che bello questo 60 bustine Ma dai Apriamo anche questa Che è infastrato Ok Ecco qua Bellissimo Qua invece Apriamo l'ultimo regalo Che so già che cos'è Il Lego City con la roulotte Un attimo che lo aspettiamo qua So già che cos'è Oh mio Dio Che regalo di un bantello Si È il Lego City con la roulotte Non ci posso credere Wow Ok ragazzi Eccolo qua Era proprio quello che volevo Finalmente Allora qua c'è il bimbo Qua c'è il Il ragazzo No scusate Qua c'è il bimbo Qua c'è il papà Qua c'è la mamma Qua c'è la macchina E qua invece c'è il caravan E anche la roulotte Si può dire E non ci posso credere ragazzi Perché quando ho visto Appena ho visto questo Lego C'era L'antenna Non ci posso credere E voi vi chiedete dove è nascosta la tv Beh Ora ve Beh La tv è nascosta Qua dentro Vedete Vedete questo qua È la tv È per questo che c'è l'antenna Qua invece ci sono le seggioline Qua c'è la pesca E eccetera eccetera E ora vi faccio vedere anche di dietro Allora Qua C'è il di dietro della roulotte Della macchina Scusate Del pick up Qua invece C'è la sedia Qua c'è da cucinare Qua c'è la tazza E qua c'è anche il bambino Che vuole far rompere il tavolo Boh Non lo so E qua invece c'è la mamma Che si siede qua Che si può mettere Non solo dentro Anche alla roulotte Il tavolo e le due sedie Si può mettere anche qua E qua invece c'è il papà E il bimbo E poi invece qua c'è Il papà che dorme Si vede che è tanto sonno E lavora tanto E qua invece c'è il Il pick up Che dentro c'è la mamma Non ho capito perché hanno messo la mamma Ma E invece qua c'è la roulotte dove Vedete che c'è il papà E il bimbo dove sarà Boh Secondo me deve essere qua dentro Allora ragazzi Ultimo Ultimo regalo Oddio ragazzi è così grande È grande Come questo tavolo Bisogna mettere via Tutti i regali di Natale Avanti No Lo sapevo Uno tirano di la Yamaha Allora E' Tutti i regali di Natale Allora c'è qualcosa e vabbè wow che bella e ragazzi guardate io infatti ho proprio il tablet così ragazzi si può mettere anche sul tablet che figata la pianola è della Yamaha ma veramente i giapponesi sono dei geni i giapponesi sono veramente delle dei scienziati sono ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mettete like su e iscrivetevi al canale qua sotto ciao